ciao a tutti buongiorno benvenuti al mio nuovo video è questo è un video che faccio con molto piacere perché vi introduco uno dei miei più grandi amici e più grandi consulenti dei miei romanzi che è marco antonio garaventa che a sua volta ha scritto un libro che adesso andremo a illustrare ciao marco antonio come stai ciao francesco benissimo bellissimo essere qui nel tuo canale emozionante genere lo guardo oggi sono con te bene allora una piccola introduzione di chi è marco antonio marco antonio ha fatto tante cose nella vita ne sta facendo tante adesso ma a me piace ricordare il suo background che anche il suo background attuale di soccorritore giusto assolutamente sì ecco e se nei miei romanzi tipo faccio un po di pubblicità rana e dentelle oppure protocollo granato alcuni altri ci sono delle scene particolarmente realistiche di diciamo così interventi in emergenza su politraumatizzati ebbene tutte le conoscenze che ho avuto e i passaggi letterali che mi ha permesso di descrivere queste sequenze in maniera secondo me molto realistica sono grazie appunto a marco antonio che mi ha fatto una grandissima consulenza e marco antonio ha voluto a sua volta scrivere un libro che si chiama prima della pioggia di luglio è un libro molto particolare che sono molto contento di introdurre a voi perché parla di una cosa secondo me che ha segnato nella storia d'italia siamo al ventennale di un grande vento marco antonio ok ce lo puoi dire che cosa è successo vent'anni fa e tu sei stato il protagonista protagonista un parolone sono stato una delle persone che che l'hanno vissuta beh vent'anni già fa per noi genovesi evidentissimo forse sono ricordano meno eventuali ascoltatori di altre città abbiamo avuto il g8 a genova i famosi tumulti del g8 a genova ed è stato un periodo che ha davvero come dici te caratterizzato la storia d'italia direi che dopo vent'anni ancora non c'è stata una soluzione emotiva a livello sociale vero quanto accaduto non abbiamo ancora fatto pace con quegli episodi o almeno con alcuni episodi che hanno caratterizzato il g8 di genova ecco come ti è venuto in mente di scrivere questo libro perché scriverlo gli aspetti sono 21 e io l'ho vissuto ovviamente vent'anni fa da giovane e mi sono reso conto che forse avevo vissuto una delle esperienze più importante della mia vita e così qualche mese dopo mi sono ritrovato a come come accade a te quelle dita sulla tastiera e ho iniziato senza dire giù magari sì maniera un po più disordinata come se fare te ho iniziato a mettere giù quello che ho visto e vissuto e nel tempo mi sono reso conto rivedendolo che era era un qualcosa che serviva a me come ricordo però aveva una sua un suo valore e così a un certo punto sai cosa accadono come accadono queste cose è un amico scrittore allude il fatto che forse hai messo giù qualche pagina potante è l'amico scrittore le guarda e ti dice ma potremmo anche vedere un attimino di valutare questo su questo scritto e quindi insieme un certo amico scrittore mi sono divertito a rivedere un attimino la cosa ecco questo posso dire l'ha scritto tutto marcantonio assolutamente ed è una testimonianza in prima persona di quello che marcantonio in quel momento era all'interno di un equipaggio di un'ambulanza vero sì io in quel periodo avevo l'incarico a genova di vice ispettore per i volontari del soccorso in croce rossa e oltre all'uscita in ambulanza avuto anche delle parti nell'organizzazione del nostro comitato che era quello centrale poi è stato una delle diciamo sedi di ambulanze che è stata più coinvolta in mezzo di scontri nel senso che dall'inizio alla fine di tumulti noi eravamo nel centro ma non solo avevamo decine di mezzi di soccorso che giravano per la città così ho preso parte sia un po all'organizzazione e poi sono uscito fuori con con degli equipaggi cambiando nei vari giorni oltretutto diverse volte ambulanze equipaggio e siamo usciti siamo usciti aiutare indipendentemente da da che ci trovavamo davanti si dava davvero una mano a tutti c'era chi c'è chi ha rischiato tanto in quella situazione e è stato dopo che come accade quando hai un incidente o altro e dopo che ti rendi conto quando è stata intensa importante e complicato quello che hai vissuto lì per lì hai avuto paura perché non amare molto dalle pagine infatti non traspare e oggi avresti paura ritornare lì in mezzo metti che per qualche motivo si ricrea lo stesso scenario e tutto come l'affronteresti oggi dopo vent'anni dopo vent'anni l'esperienza umana con la mia squadra uscirei ma avrei paura se ci andasse mio figlio io io ci tornerei ci sono già stato virgolette non voglio esagerare un po reduce con la mia squadra con i miei amici lo rifarei malvolentieri ma lo li farei se fosse invece ora che inizia avere un figlio grandicello se fosse mio figlio a dirmi guarda che sto per vivere un'esperienza come la tua sarei molto turbato ecco nel tuo libro ci sono vari episodi che sono la testimonianza la tua testimonianza diretta di cose che tu hai visto e che solamente parzialmente sono state coperte diciamo così dai media cioè tu hai avuto una visione passiamo in termine privilegiata sul campo di quello che stava accadendo ecco dopo che hai visto immagino le varie riprese fatte dai media successivamente così secondo te che che cosa hanno fallito a comunicare o che cose sono stati bravi a comunicare i media cioè l'idea è di fuori guardando i telegiornali le dirette al tempo così si aveva una reale percezione di cosa stesse accadendo a genova nella zona rossa alla zona rossa è rimasta protetta è stato sul confine la zona rossa dove sono venuto avvenuti tumulti difficile perché allora le immagini trasmesse e quello che mi hanno comunicato non era sbagliato ovviamente quello che ha colpito noi ha colpito me è stato intanto la l'ampiezza del fatto quando vedi una ripresa una telecamera tu vedi un soggetto vedi una piazza invece una ampissima zona di città era coinvolta in questi scontri l'altra cosa che davvero è stato molto particolare lo descrivo nel film è che magari lì però dei scontri lentissimi si non senza fare spoiler sono scontri violentissimi nella zona giravi l'angolo e c'era gente con il cane a passeggio c'era questo senso di in realtà ecco quando mai detto hai avuto paura no sei rimasto confuso sia io che i miei colleghi tante volte un profondissimo senso di realtà e quando potevi un attimo distrarti dal soccorso in quel momento in cui non eri più totalmente concentrato e sbattevi le palpebre ti guardava intorno dicevi ma no ma sto sognando non può essere vero secondo te chi dovrebbe leggere questo libro per assurdo allora i soccorritori secondo me nel libro ho inserito anche degli aspetti tecnicamente utili su come affrontare una situazione simile e tumulti di questo livello qui non si sono visti negli ultimi 50 anni forse cose simili si può descrivere era stata la la protesta del pregio calabria quando avevano cambiato il capoluogo che c'erano stati i giorni tumulti ma si parla degli anni 50 60 credo non vorrei sciocchezze il tumulti di questo tipo qui in italia non credo non siano mai accaduti per cui non c'è un know how che qualcuno può trasmettere nell'ambiente del soccorso tranne noi eravamo a genova non solo croce rossa e anche tutti gli altri colleghi sicuramente è un libro da soccorritori e soccorritori non non c'è dubbio io ormai in età in cui mi sento un po più uno zio anziano che passa a quelli più giovani le proprie esperienze per per arricchirli il credo che sia interessante comunque per un pubblico più vasto se qualcuno ancora voglia di vedere una visione del g8 il tecnici non ho cercato a metterne troppi quanti necessari per i miei colleghi per capire cosa fare se si ritrovassero in una situazione simile quello che ho cercato di inserire nel romanzo è un visione imparziale nel senso che anche se ciascuno di noi sui correttori aveva una sua opinione sociale politica e quanto quando eravamo indivisa in ambulanza siamo rimasti davvero secondo me tutti realmente neutrali e abbiamo visto qualcosa l'abbiamo registrato che la gente ancora io io non ho visto uscire fuori documenti dai discorsi sul g8 e vent'anni le cose possono cambiare molto molto rapidamente tanto rapidamente che la gente non si rende neanche conto che sia adattata quando le cose va male e qui entriamo molto sul tema del dei tuoi romanzi delle dei tuoi racconti non è il tempo di registrare cosa sta accadendo è solo il tempo di adeguarti e dopo che ti rendi conto che ops ma come ieri mattina città tranquilla ieri pomeriggio si sparava per strada questo è un acco questo questo particolare nella mentalità italiana non esiste è ma non cambierà mai nulla cambierà ma cambierà lentamente noi siamo da una stiamo uscendo speriamo da una pandemia e l'abbiamo vista arrivare un po alla volta ok è stato un fenomeno particolare la violenza arriva di colpo la violenza è boom quando inizia la violenza e violenza puoi o scappare o se rimani in mezzo non ci sono di di mezzo noi abbiamo avuto la possibilità di essere un po protetti forse per l'incarico il guscio che vanno attorno alludo l'ambulanza la divisa io i miei colleghi ripeto sia pubblica assistenza che che croce rossa e quanto quindi non siamo riusciti a vederlo non proprio come l'hanno visto gli altri perché o era gente che partecipava ai movimenti per strada riguardano delle finestre noi ci siamo mossi un po come topolini in giro per questi questi ambienti qui ed era violenza vera c'è qualcuno pensa ancora forse che si sia andato gli sgranassoni la gente una parte delle persone coinvolte la mia condizione che volesse ammazzare le persone che aveva di fronte non volevano farli male si voleva ammazzare c'è mancato poco è morta una sola persona dico sola con il rispetto di una vita che è una vita va bene secondo me sono stati fortunati è quello che dicono in tanti questo per chi lo deve leggere ea chi lo vorresti dedicare questo libro allora in generi si dedica sempre la famiglia è verissimo e sotto un certo aspetto sicuramente c'è un'altra persona altro scrittore scrittrice come te che mi ha dato una mano e purtroppo è mancata da poco ovvero mia cognata simona che purtroppo mi ha aiutato non vedrà uscire il libro è una cosa che mi dispiace moltissimo in realtà lo da padre lo dedico alle generazioni future ma non che sia una testimonianza incredibile ma un pochino a me non dispiacerebbe che lo leggessero i ragazzi giovani un po nella nostra mentalità prepper ritorno al può accadere non escludetelo e può accadere in un ambiente sereno e tranquillo come era genova nel 2001 che era molto più tranquillo di ora forse da un punto di vista sociale politico e anche economico eravamo molto più felici per cui è un po dire attenzione è già accaduto e non troppo tempo fa esatto perché questo titolo non posso spoilerare e si capisce quando si arriva quasi all'ultima pagina e per quello che è importante leggerlo chi era lì forse lo ricorderà ma il il meteo il signore secondo che come si vuole interpretare in quei giorni quindi è un libro che secondo me dovrebbero leggere anche è un libro che dovrebbe leggere anche chi ha partecipato attivamente passivamente a quegli episodi a quei giorni qualunque forse la qualifica che aveva ok e che viste e però secondo me è soprattutto e molto 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 indicato a tutte quelle persone che l'hanno visto solamente in televisione secondo me come me ad esempio che ho avuto questa percezione e poi abbiamo visto tutti gli strascichi che ci sono stati giudiziari che sono durate per svariati anni a tutt'oggi se ne parla a tutt'oggi non si sa di preciso c'è una diciamo così una verità giudiziaria ma c'è anche un altro tipo di verità che continua a si arpeggiare ovviamente questo libro lo dico subito non vuole giudicare vero tu non dai un giudizio questa è molto importante secondo me dirlo non c'è neanche un giudizio perché non si può andare avendolo visto è stato un insieme di condizioni molto complesse che forse non verranno neanche mai a galla tutte esatto esatto perché dalle tue pagine traspare che hai visto appunto situazioni di violenza estrema unite a situazioni di calma nel giro di 5 metri o nel giro di 5 minuti ecco però hai fatto il tuo dovere il tuo equipaggio ha fatto il suo dovere tanti altri hanno fatto il loro dovere nel G8 di Genova e secondo me questo libro è la miglior testimonianza e il miglior omaggio a quelle persone che nonostante tutto nonostante questa situazione loro hanno fatto il loro dovere ecco questa è secondo me la cosa migliore che può dare questo libro e trasmetterlo a chi non c'era o chi non ha potuto capire quindi prima della pioggia di luglio marco antonio garaventa ecco questo libro quando sarà disponibile sono già in ritardo doveva essere doveva essere già uscito il lavoro e mi ha veramente tagliato un po le gambe il motivo di farlo uscire così tardi stato che oggettivamente dopo quello che ho vissuto non volevo che diventasse potesse diventare un oggetto diciamo tirato in causa nel vero senso della parola certo certo e il fatto questo controllato che fosse tutto fermo ormai tutto risolto sono in ritardo gli spero entro 15 20 giorni di poterlo rendere disponibile benissimo quindi immagino che sarà disponibile su tutte le piattaforme di vendita online e tutto in vari formati e quindi mi raccomando prima della pioggia di luglio marco antonio garaventa una testimonianza diretta del g8 del 2001 a genova ciao marco antonio e grazie ciao francesco